Ogni tanto i paesi cambiano nome, ma perché lo fanno? Beh, ci possono essere varie motivazioni. Cominciamo con i paesi bassi. Molti li chiamano Olanda anche adesso, ma il paese ha ufficialmente disapprovato il nome Olanda nel 2020, cambiando il logo ufficiale da questo a questo. In effetti, il nome Olanda si riferisce solo alla regione più ricca e influente del paese, che copre solo il 20% della superficie totale. Spostandoci a est troviamo quest'isola che un tempo si chiamava Ceylon. Il nome è stato cambiato in Sri Lanka quando la regina d'Inghilterra cessò di essere il capo dello stato nel 1972. Gli abitanti sentivano che il nome Ceylon era solo un ricordo del loro passato coloniale e così lo cambiarono in Sri Lanka, che significa isola splendente. Un'altra colonia britannica, la Rhodesia, si divise creando due paesi, Zambia e Zimbabwe. Questo paese prendeva il nome dal colonizzatore Cecil Rhodes, apertamente razzista. Quindi pensarono che non fosse opportuno mantenere il nome. Infatti, quando la Rhodesia settentrionale divenne indipendente, scelse il nome Zambia per via del fiume Zambesi, mentre la Rhodesia meridionale mantene inizialmente il nome Rhodesia, ma poi cambiò in Zimbabwe, in onore dell'antica civiltà del Grande Zimbabwe. Più a nord, la Persia, ha cambiato il suo nome in Iran. O meglio, noi occidentali abbiamo iniziato a chiamarlo Iran invece che Persia. Gli iraniani hanno sempre chiamato così il loro paese. Gli altri paesi hanno iniziato a farlo a partire dal 1935, quando il re chiese ufficialmente a tutti gli altri paesi di usare il nome Iran. Spostandoci verso est, possiamo trovare un paese che ufficialmente si chiama Myanmar. Ma qui, la stragrande maggioranza delle persone lo chiama ancora Birmania. Il fatto è che il nome Birmania tecnicamente rappresenta solo la predominante etnia Bamar. Ecco perché quando nel 1988 la giunta militare prese il potere, il nome ufficiale fu cambiato in Myanmar, che di fatto è un modo più raro e formale di chiamare il paese nella lingua locale. Tornando in Africa, troviamo questo paese che ora si chiama Repubblica Democratica del Congo, ma si chiamava Zaire. Si potrebbe pensare che abbiano cambiato il nome a causa della colonizzazione, ma in realtà hanno scelto di tornare al nome che i colonizzatori belgi gli avevano dato. Infatti, quando il dittatore Mobutu salì al potere, cambia subito il nome della già indipendente Repubblica del Congo in Zaire, per staccarci dal passato coloniale del paese. Ma durante il suo regno, la gente soffrì moltissimo e il paese non prosperò affatto. Ecco perché quando il dittatore fu rovesciato nel 1997, il nome del paese fu cambiato di nuovo in Repubblica Democratica del Congo, perché il nome Zaire era ormai associato al regime e il paese ora voleva diventare democratico. In realtà però la Repubblica Democratica del Congo è ancora tra i paesi più poveri e meno democratici al mondo. Con questo è tutto. Ci ho messo moltissimo a creare questo video, quindi a pretrare moltissimo un tuo suggerimento nei commenti oppure una tua iscrizione al canale. Alla prossima!